Anche gli eventi formativi si adeguano al Covid-19, il caso della Borsa Mediterranea della Formazione del Lavoro, che quest'anno si terrà in modalità totalmente digitale. L'annuncio nel corso della conferenza stampa, anche questa a distanza, sui canali social della manifestazione, oltre che su quelli di Telecolore. Promossa dall'associazione No Profit Centro Studi Super Sud ed organizzata dal gruppo Stratego, la Borsa ha l'obiettivo di agevolare l'incontro tra domande ed offerta di lavoro e fornire agli studenti delle scuole e delle università strumenti per l'orientamento e la crescita professionale. Per l'edizione 2020 sarà inoltre lanciata una nuova piattaforma, BMFL, indirizzata a chi è alla ricerca di corsi di formazione ed annunci di lavoro e chi li offre, cioè enti di formazione, agenzie per il lavoro ed aziende. Previsto anche un focus sul lavoro a Caserta, dal 25 al 27 giugno quindi una maratona virtuale di tre giorni sul tema della formazione del lavoro, con un hackathon rivolto a 70 studenti. È importante questa borsa, sono stata molto contenta di essere con voi l'anno scorso in questa prima edizione perché è stato non solo bello poter partecipare a tutti gli incontri ma notare e percepire l'entusiasmo di tutti coloro che ne hanno preso parte, sia agli operatori, le operatrici, degli enti di formazione, delle agenzie ma anche dei ragazzi che magari per la prima volta chiedevano ed erano incuriositi da quelli che erano i percorsi di formazione. E farlo online credo che possa essere ulteriormente se non più come dire stimolante da un certo punto di vista, quindi diverso ma ugualmente importante per tutti i ragazzi e ragazzi che appunto hanno, per alcuni di loro si tratta di affrontare una scelta magari per il loro futuro. Questa borsa è niente altro che diventerà una borsa online permanente perché spesso abbiamo assistito a tanti protocolli, qui l'assessore, la direttrice scolastica, la dottoressa francese che saluto e insieme anche al mondo dell'impresa hanno fatto una serie di protocolli. Noi che cosa vogliamo fare attraverso questo software? Renderli permanente, dare esecutività a questi protocolli, a questi mondi affinché l'orientamento, l'informazione, la formazione, questo mondo dialoga in maniera permanente. L'anno scorso abbiamo avuto oltre 5.000 presenze fisiche, sono state da noi in visita circa 100 scuole provenienti da tutta la regione Campania e addirittura qualche presenza da fuori regione, dalla vicina Barsidicata, Mosil, Molise, Calabria. Abbiamo avuto tantissimi riconoscimenti e patrocini istituzionali, 100 imprenditori sono venuti a passare delle ore in questo luogo fisico che ha visto protagonista la prima edizione, l'ex tabacificio centrale di Ponte Cagnano. Allora tutto questo ecosistema non lo potevamo far depauperare e quindi abbiamo voluto costruire, metterci in gioco e per la prima volta per quanto riguarda il mondo della formazione del lavoro si organizza un evento cross mediale di queste dimensioni.